Ciao ai compagni di Radio Radicale, ciao Elen, ciao a tutti voi. Vi confesso una certa emozione, perché da un lato partecipo all'oratò, alla campagna, alla maratona con lo spirito e il sentimento di chi ha svolto in questo paese un'azione civile quindi prendo parte ed esprimo quello che devo esprimere sul piano politico e però è difficile non separare quelli che sono i miei sentimenti reali verso un amico che c'è ancora, magari ci sta anche ad ascoltare, che è vivo quindi insomma stiamo parlando di una persona viva, non stiamo parlando di un uomo morto. Voglio dire di Ambrogio, tutta volta che ci siamo sentiti, ci siamo scambiati una nota vocale proprio l'altro giorno, perché io ho fatto un post su Facebook di solidarietà nei confronti di Ambrogio e di stupore per la sentenza e lui mi ha scritto un messaggio molto addolorato mi ha mandato un messaggio vocale con una voce molto addolorata di ringraziamento allora un po' come succede nel film di Molicelli, amici miei, mi è venuta proprio la palla al balzo di fare uno scherzo, perché io a mia volta gli faccio una nota vocale e gli dico ma di cosa stai parlando? Io non ho fatto nessuna... non ho fatto nessuna... non ho fatto nessuna dichiarazione a tuo favore e dico ma avranno sicuramente toccato il profilo a un certo punto mi sono bleccato, dico no guarda Ambrogio, guarda che ero io e lui mi ha rimasto una nota e mi ha detto grazie, mi hai fatto ridere anche in un momento come questo dall'altro potrei essere io a parire poco serio dall'altro la verità è che l'unica cosa che mi sentivo di fare e a volte che dimostrava solidarietà era anche cercarlo di fargli fare una risata naturalmente le cose in questo momento non si possono fare ma ce ne facciamo una ragione ma magari un giorno ce le continueremo a fare Ambrogio è un uomo generoso, è un uomo pieno di passione pieno di non solo passione civile, pieno di sentimento in genere diciamo chi ti giudica, cioè chi comunque ti contesta un reato deve anche avere un po' di psicologia, insomma deve profilare la forza delle sue accuse anche guardando chi c'ha di fronte ecco mi è molto complicato sostenere che in questo caso al di là dei codici che sono stati violati ammesso che siano stati violati non ci sia stata una come dire una inevitabile diciamo riflessione su di che cosa sulla persona di cui stavamo parlando no è un classico orrore giudiziario perché poi a che pro a che fine a che pro uno deve sostenere la campagna elettorale di Tizio di Carlo Semproio era una cosa totalmente campata per aria e questa è la cosa diciamo che agli amici non va tanto giù sul fatto che comunque c'è una sproporzione fra gli addebiti e in realtà la ragione stessa degli addebiti è un uomo, un intellettuale perché è un uomo che ama il cinema, l'arte non banalmente è solo un uomo di famiglia, insomma un uomo che ha cercato di darsi da fare in una condizione difficile perché non dimentichiamo voi avete vissuto anche per lungo periodo insomma senza senza i genitori quindi un uomo che ha vissuto che ha sofferto nella sua vita e questa diciamo questa india di costituita da te da Ambrogio dove in realtà io ravedo sempre il fatto che diciamo che l'uomo forte diciamo della casa rimaneva Ambrogio perché nonostante apparisse fragile è un uomo molto determinato, molto sicuro di sé e al tempo stesso appunto pieno di fragilità ecco questo è il ricordo che io mi sento fare sapendo che non è morto e sperando naturalmente che le ragioni della giustizia, il veicolo che può essere utilizzato, quello della grazia piuttosto che della revisione, piuttosto tutti gli strumenti che sono di legge possibili per rovesciare questo esito, credo che verranno fatti e mi immagino che verranno fatti un'ultima riflessione, consentitemi, ho visto che nel panel che mi precedeva c'era Gerardo Colombo che solidarizza con Ambrogio Crespi ora io posso dire beh è un fatto positivo nel senso che comunque è un magistrato che solidarizza con un galeotto è pur sempre un ex magistrato, è pur sempre un fatto positivo però io non dimentico una cosa, sarei falso se non lo dicesse però Gerardo Colombo è stato protagonista nella stagione più violenta del giustizialismo italiano di cui in fondo Ambrogio ne è una vittima di una coda perché è chiaro che si vuole colpire Ambrogio non perché Ambrogio fosse un pericolo pubblico ma perché in qualche modo la vostra esperienza personale era collegabile diciamo quella dell'epopea della vicenda belusconiana anche se totalmente in ritardo è la coda di una lunga stagione è la coda di una lunga stagione intendiamoci, gli errori della vita come dei magistrati possono accadere quindi non voglio gettare la croce su nessuno però l'uso politico della giustizia purtroppo è una malattia del nostro tempo non solo italiana che non è stata corretta e ci sono stati grandi vittime, piccole vittime Ambrogio è nato il 19 gennaio esattamente lo stesso giorno in cui è nato mio padre questa cosa mi ha sempre fatto molta impressione e mi ha detto in quel messaggio dice io la prima cosa che voglio fare quando esco è portare i miei figli sulla tomba da Mamet insieme a te io glielo ho sempre raccontato che è un posto meraviglioso beh questa cosa si può fare e la faremo un abbraccio